Hello, welcome sul mio canale Cherries, benvenuti e bentornati, io sono Sakuri e il video che vi propongo oggi è una nuova Sakuri View, quindi il format di video in cui vi porto in giro per la Norvegia, per hotel e ristoranti e vi faccio recensioni dei posti che visito quindi nel video di oggi vi porto in un ristorante, un ristorante di Bergen, super carino mi è piaciuto un sacco, si chiama Eat Me, ma online lo trovate anche come Fish Me se ho capito bene, Eat Me è il ristorante della pescheria Fish Me che si trova in questa struttura che ospita il mercato del pesce a Bergen è una struttura molto molto in centro, super luminosa, con un sacco di pesce super buonissimo dovete assolutamente farci un salto se vi capita di andare a Bergen vi spiego brevissimamente come sono strutturate le mie recensioni io do un voto a diverse categorie, la prima è la posizione, quindi dove si trova il ristorante l'atmosfera, l'offerta, quindi banalmente il menù la qualità dei prodotti usati e il prezzo, chiaramente il rapporto all'offerta e alla qualità dei prodotti do un voto da 1 a 6, dove 1 è il minimo e 6 è il massimo perché questa scelta? semplicemente perché nelle scuole norvegesi i voti si danno dall'1 al 6 anziché dall'1 al 10 come è uso in Italia in genere non do voti solamente io ma chiedo anche al mio accompagnatore o ai miei accompagnatori di esprimere un voto, quindi nel caso poi si fa una media generalmente il mio unico accompagnatore è l'ingegnere questa volta abbiamo due ospiti specialissimi due nostri amici uno ve lo presento come lo stambecco sapete perché se avete visto questo vlog su Bergen non mi ricordo se ho detto nel primo o nel secondo, vabbè ve li metto tutti e due e l'altro accompagnatore sarà invece Diver Boy possiamo partire il video? ecco qui, siamo davanti al ristorante è in quell'edificio, in quella struttura tutta super luminosa con tutte le vetrate ed è il mercato del pesce di Bergen vi lascio linkato qui in alto nell'angolino il video che avevo girato al mercato del pesce un anno fa come vedete siamo super super in centro vedete che dall'altro lato di questo piccolo fiordo che entra nella città c'è il Brigen che è la parte praticamente più centrale della città di Bergen quindi posizione super comoda come dicevo partiamo valutando la posizione sulla posizione ci siamo trovati tutti e quattro d'accordo quindi vi dico un voto unico abbiamo dato tutti sei alla posizione questo perché il ristorante è veramente molto in centro fate conto che, non so se conoscete Bergen comunque una delle zone più famose più centrali, più importanti è il Brigen che è questa passeggiata sul lungomare del fiordo di Bergen che entra verso la città e questo ristorante è esattamente dalla parte opposta del fiordo rispetto al Brigen quindi mega centrale ci si arriva super comodamente con i mezzi con la macchina un po' meno nel senso che ci sono dei parcheggi nelle vicinanze sono abbastanza costosi però comunque non bisogna camminare moltissimo ed è vicino a un sacco di altri locali per eventualmente poi andare a fare serata pazza dopo la cena vi faccio vedere al volo come si presenta l'interno del locale come vedete è tutto abbastanza semplice abbastanza basic siamo in una sorta di dehors una verandina chiusa infatti vedete che queste lampade sono tutte le lampade riscaldanti noi sentiamo leggermente freddo stasera ma forse più perché siamo stati in montagna al freddo in mezzo al ghiaccio nel caso dovesse fare troppo freddo vi danno in dotazione anche delle copertine molto calde l'atmosfera è semplice ma ad effetto direi passiamo all'atmosfera qualcosa avete intravisto dagli spezzoni di video che vi ho messo prima in questo caso l'ingegnere e diver boy sono d'accordo nel dare un 5 a questa categoria mentre io e lo stambecco abbiamo dato un 4 vi argomento un po' questi voti non so quanto renda in video comunque voi immaginate che questo ristorante si trova in questa struttura che è un rettangolo enorme a lato del fiordo, del mare tutto completamente in vetro quindi c'è proprio una vista sul fiordo, sul brig molto molto bella nelle belle giornate quando trovi è il massimo però comunque di base il concetto è molto bello e il ristorante si trova cioè i tavolini, la zona del ristorante si trova accanto alla pescheria con tutti questi banchi di pesce freschissimo nel ghiaccio bellissimo però l'atmosfera manca di quel gensè qua non so è un po' spoglio forse a noi non piacciono comunque i ristoranti o bar, pub troppo carichi di dettagli con un sacco di cose in giro però questo ci è sembrato un pelino troppo spoglio forse manca quel qualcosina all'atmosfera si potrebbe fare di più ciò non toglie comunque e ne siamo assolutamente consapevoli che mangiare pesce super super fresco sul fiordo di Bergen con la vista sulla città sul brig le navi che vanno avanti e indietro insomma non è cosa da tutti i giorni facciamo una panoramica rapida del menù intanto mi scuso per la qualità non so che cosa riuscirete a vedere ma abbiamo la lampada proprio sopra il tavolo e ovunque mi metta non riesco a fare una ripresa che non abbia il riflesso però spero che vedrete comunque qualcosa ci propongono innanzitutto due menù fissi di tre portate uno di pesce e uno di molluschi mentre in questa pagina troviamo una lista di antipasti di zuppe e a seguire le insalate nella prossima pagina intanto potete anche vedere un po' i prezzi velocemente qui abbiamo tutti i vari le varie portate principali tenete conto che principalmente c'è pesce c'è qualcosa di vegetariano ma anche qualcosina di carne questa qui è tutta una pagina di molluschi vi dirò vedendo i prezzi velocemente è costoso ma neanche troppo qui abbiamo gli hamburger la mia sezione preferita e gli snack diciamo i contorni mentre questa è una lista di panini e a seguire troviamo sulla stessa pagina i dolci e questo diciamo è il menù normale tra virgolette qui poi abbiamo diverse pagine con una carrellata infinita di proposte di sushi sushi, sashimi fanno diverse cose tutto pesce crudo noi non l'abbiamo provato ma penso che vi potreste fidare perché comunque il pesce è super super fresco e la qualità che trovate qui secondo me è quasi quasi inarrivabile vedete che c'è veramente un'offerta infinita in questo senso in fondo al menù invece come sempre ovviamente troviamo la lista delle bibite iniziamo con la lista dei vini la prima pagina è dedicata ai vini di cui potete ordinare solamente il bicchiere mentre poi ci saranno tutta una serie di pagine di vini di cui potete ordinare solamente la bottiglia c'è una pagina dedicata ai vini vegani scusate l'ignoranza non so di cosa si tratti e poi passiamo insomma a tutti gli altri tipi di bibite birre, bibite analcoliche eccetera valutiamo ora la categoria offerta che forse è quella più interessante in questo caso siamo stati d'accordo io, diver boy e lo stambecco nel dare un 4 mentre l'ingegnere ha dato un 3 la motivazione con cui comunque siamo d'accordo anche noi che abbiamo dato un voto in più è che non danno secondo noi la giusta importanza alle loro carni pregiate non vanno al di là di quello che di solito si trova negli altri ristoranti norvegesi e l'offerta di pesce è un po' limitata e secondo noi è veramente un peccato perché comunque è tutto pesce freschissimo hanno veramente un sacco di varietà nella pescheria ed è veramente un posto con delle potenzialità quindi secondo noi è un peccato che l'offerta sul menù sia un po' limitata potrebbero veramente con le materie prime che hanno e con la qualità delle materie che hanno a disposizione potrebbero veramente secondo noi essere un po' più creativi col menù abbiamo ordinato tutti cose diverse vi faccio vedere cosa ho preso io ho preso questo pesce con una crema di piselli e delle verdurine e il bacon sopra non è male devo dire è veramente buono si sente che è fresco è anche presentato bene devo dire che l'accostamento con la crema di piselli e le verdure e il bacon mi è piaciuto ci siamo trovati talmente bene che siamo tornati anche per il pranzo della domenica e in questo caso ho preso sempre pesce stavolta fish and chips molto buono panatura super croccante forse leggermente pesantina però io non sono tantissimo abituata a mangiare il fritto avrei credito più patatine fritte ma solo per gola la stalsina d'accompagnamento spettacolare quindi veramente ve lo straconsiglio unica pecca sempre dal mio punto di vista hanno messo tanto sale sopra e io mangio senza sale però per una persona normale direi che è più che adeguato solo per gola perché non pensiate che non mi abbia riempito il fish and chips ho voluto prendere anche il dolce ho preso due waffle waffler li chiamano loro sono molto molto sottili con panna acida marmellata e quei quadratini marroncini che vedete nell'angolo sono delle fettine del loro formaggio dolce di capra brunost ragazzi li dovete provare sono favolosi prossima categoria la qualità e anche questa è una categoria fondamentale secondo me c'è offerta e qualità secondo me sono le cose da tenere più d'occhio quando si sceglie un ristorante anche qui ci siamo trovati tutti e quattro d'accordo nel dare un 6 pieno senza discussioni perché il pesce è veramente freschissimo e per quanto come abbiamo detto l'offerta sia magari un po' limitata la qualità non perde assolutamente cioè si sente mangiando il pesce o la carne che propongono che è super super fresco ultimo ma non meno importante valutiamo il prezzo che per quanto uno vada al ristorante con l'intenzione di mangiare bene ci va anche probabilmente con l'idea di non lasciarci un mezzo stipendio per una cena in questo caso avete visto un po' i prezzi dal menu è costosino però rispetto magari a ristoranti italiani o uno stipendio italiano però non è più costoso di altri ristoranti norvegesi della stessa fascia o per la verità anche di fasce un po' inferiori secondo me quindi è in linea con i prezzi norvegesi per cui molto molto onesto e la qualità è rispetto a tanti altri ristoranti norvegesi più alta secondo me quindi qui ne guadagna il rapporto qualità prezzo è ottimo infatti in questo caso siamo stati ancora tutti e quattro d'accordo con il voto e abbiamo dato tutti un 5 quindi velocissimamente il totale dei nostri voti è 101 su un massimo di 120 non male perché se lo trasformiamo in una scala da 1 a 6 è un 5 pieno quindi direi voto onestissimo riepilogo super rapido ottimo rapporto qualità prezzo super comodo come posizione se beccate anche una giornata non piovosa la vista non è male consigliato consigliatissimo direi che è un po' più sul turistico andante rispetto ad altri ristoranti che potreste trovare a Bergen che noi non siamo ancora riusciti a provare perché entrambe le volte che siamo andati a Bergen quelli un po' più caratteristici un po' più tipici erano chiusi però guardando il menu i piatti non sono diversissimi quindi secondo me questo qua è un po' più turistico un po' meno autentico rispetto ad altri ma sicuramente non vi delude oltre il fatto che potete farvi anche un giro nella pescheria che non è male solamente per dare un'occhiata se riuscite anche a portarvi via qualche prodotto che magari non so avete un appartamentino state qualche giorno potete provare a cucinarvi qualcosa in casa di fresco o prodotti che non hanno bisogno di stare a basse temperature riuscite a portarvi in Italia insomma non male consigliatissimissimissimissimissimissimo noi ci siamo trovati veramente bene infatti ci siamo andati più di una volta già tre in totale credo quindi la mia recensione si conclude qui spero che sia stata interessante che vi ho dato magari uno spunto su dove andare a pranzo a cena a Bergen se ci siete stati fatemi sapere magari qui sotto nei commenti cosa ne pensate se non ci siete stati fatemi sapere nei commenti se vi ho fatto venire voglia di andarci soprattutto se come al solito quando faccio video in cui parlo di cibo vi ho fatto venire fame perdonatemi come sempre vi ringrazio per aver visto il video ragazzi un bacione alla prossima ademela un po' di cibo